Potrei eliminare questo tizio senza fare il minimo rumore. Io voglio a casa. Concentriere dich auf deine Auf... Grazie a tutti. 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 Mi sa che ho preso tutto quello che serve. Tra il fogliame e le ombre sarò più nascosto. Quella torre sembra un buon punto di forza. Grazie a tutti. 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 È tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 sei vivo? sì. le infarto. me st' cliccando ora.